La barzelletta di Geppo E' pomeriggio, due conoscenti stanno chiacchierando del più e del meno A un certo punto uno aveva quell'altro Pensa, ieri mio figlio mi ha detto le sue prime parole L'altro va, wow, che bello! E che ti ha detto? Mi ha detto, papà, ma dove sei stato negli ultimi vent'anni?